La signora Bertolotti, stamattina alle 5, pi 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 pi, acqua e pianta? Sì ho sentito signora. Finanzata dalla figlia, po po po, con clax da le due di nozze. Sì ho sentito signora. Ha sentito tutto? Ha non fatto niente? Signora, non è che ogni volta che uno si muove posso mettermi a urlare non fate pipì, non fate popò, lo sarebbe elegante. Bambini mi raccomando, appena arrivate a portare i telefonatemi eh? Annina, per piacere, queste ginocchina sulle pelizie, queste pelizie devono stare in agenzia, non in macchina. E non dare da mangiare ai cani, ma ascoltate, quando io parlo, sì o no? Guarda, è questo il rimborso per l'ernia di Giovanna. Sì, l'ernia, sono fatta le tette, c'ho fredato. Ma che tette, ma che tette? C'ho le tessere imbottite, per quello sembra più grosse. Le borracce, sembra più borracce sempre. Oh, la borraccia ce l'avete? Ecco, lo vedi, ma ascoltate, ma se non c'è la borraccia. Sì, spero. Il volume. Ma la ragazza, non c'è la cosa, mi dispiace. Prego, zio. Fugo, mi raccomando, la pratica del conte Giannizzeri. Tu sai che la Sacra Rota non libera facilmente dal vincolo matrimoniale. Ci vuole molto. Ciao, Marcellina. Grazie. Mure, io mi vado a fare la testa. Sì, amore, ciao.